Allora continuiamo il nostro giro all'interno della mostra meccanica agricola per raccontare un po' quelli che sono i prodotti e gli espositori. Siamo arrivati nello stand della Agricold di Bolla, qui siamo con il signor Luciano che è il papà del titolare e così a signor Luciano ci facciamo raccontare un po' quali sono i prodotti di punta che avete portato alla mostra per esporli e per ovviamente raccontarli ai vostri clienti. Allora l'Agricold commercializza, installa e ripara impianti per la refrigerazione del latte, impianti di mongitura. Un altro settore che esula un po' dall'agricoltura è quello delle celle frigorifere, facciamo celle frigorifere fisse, celle frigorifere sul camion come si vede esposto. Questa ormai è un'attività che svolgiamo dalle origini proprio della ditta Bolla, quindi dagli anni 50 aveva già iniziato mio papà. E oggi siamo contenti di quello che abbiamo raccolto dopo aver seminato per tanti anni. Bene, dove si trova la sede della vostra azienda? La sede della nostra azienda si trova sulla strada provinciale Saluzzo-Moretta a Torre San Giorno, nella zona industriale di Torre San Giorno. Attualmente siamo mio figlio che è il titolare dell'azienda, io, due miei fratelli che siamo coadiuanti, più 14 dipendenti. Bene, da quanti anni è venita la fiera di Saluzzo? Ma io mi ricordo da bambino, penso dire da sempre, perché avevo 4-5 anni quando la fiera si svolgeva sulla piazza di fronte al palazzo di Calosso, adesso mi sfugge il nome della piazza, comunque partecipavamo già alla fiera. Bene, allora trovate la mostra agricole di bolla, buon lavoro e buona fiera di Saluzzo. Grazie, altrettanto a voi, buon proseguimento. Voilà!